ciao amici di napolita il napoli vince 1 a 0 gol di amir akhmani contro l'haussburg e rudy garzia fa lo scienziato pazzo iniziamo si inizia con un 433 magico veloce con tutti i piccoletti la partita contro l'haussburg tutti fuori no quelli top non ceo simen non c'è quara schelea allora rudy garzia inserisce osticard e rachmani come centrali olivera e di lorenzo sulle fasce quindi esterni bassi e poi avanti abbiamo in regia stanislav lobotka e le due mezze ali da una parte c'è jack raspaduri che è il giocatore proprio centrale ragazzi di tutte queste amichevoli perché lui proprio che sta iniziando a dettare i tempi si fa un lavoro molto molto intelligente con jack è bravissimo soprattutto anche nell'intensità per me sta benissimo anche a livello fisico ovviamente dobbiamo pensare che i ritmi di queste amichevoli sono blandi soprattutto per quello che riguarda il sacrificio nell'andare a recuperare palla perché lì la chiave di tutto questo perché c'è il lavoro quello la intelligente che serve per la regia quello che fa jack raspaduri però poi dobbiamo anche pensare che nella fase di recupero e di interdizione non c'è molto da fare il primo tempo che andava un po a ritmi bassissimi perché poi l'hausburgo continuava a fare sto passaggino difensore 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 portiere un po a proprio a scocciare diciamo la verità perché brutto a vedere anche in un amichevoli perché uno deve divertirsi deve divertire anche il pubblico dall'altro lato parlando sempre della formazione del primo tempo c'era lì felmas c'era quindi un lavoro intelligente del macetone che veniva sempre a ricucire un centrocampo molto mobile dobbiamo essere onesti perché anche se stanislavlo botta risiedeva lì nella regia quindi da play i due esterni quindi le due mezze ali potevano fare quello che volevano loro in avanti c'era lo zano a sinistra no un po tutti ma lo zano perché non gioca a sinistra è arrivato dal psp in dove che giocava a sinistra garzial ha utilizzato tanto ovviamente dobbiamo pensare che questo utilizzo va prima di tutto catalogato in determinati minutaggi e poi non c'è quara a destra ovviamente c'era la scelta obbligata di politano perché lo zano lo dovevi mettere di là e davanti c'è il sciolito tante occasioni tante azioni che arrivano proprio da questa fase di regia fatta da jack raspadori diciamo la verità jack è un calciatore che ha tantissimo talento quindi dove lo metti lo metti ti può inventare qualcosa ma nel primo tempo soprattutto abbiamo visto tante azioni partire proprio da lì lui è uno che appena riceve palla tende subito ad andare in verticale tante volte ha acceso proprio politano sulla sua fascia ha acceso anche di lorenzo quando lui andava a fare la fase di pressione quando si andava a fare la fase offensiva e raspadori andava sempre a mettersi sulla tre quarti la parte che lui preferisce perché vuoi o non vuoi sempre lì si trova il bimbo d'oro alle spalle trovavano di lorenzo sempre molto attento che era bravissimo a schermare tanto la parte che il giocatore italiano lasciava libera quindi si metteva lui un po' sull'altezza del centrocampo è una buonissima fase anche di recupero veniva fatta dai due centrali che erano molto duttili racmani che andava ad appoggiare la fase di costruzione e poi dobbiamo dirlo l'ausburg ha iniziato un po' con dei ritmi bassi poi ha provato a fare un po' di aggressione però c'era poco poi ci sono tantissimi termini due oggi di rudy garzia che sono molto belli per esempio con elmas all'improvviso il tecnico dice falla vivere riferendosi alla palla bellissimo e poi all'improvviso riferendosi a tutta la squadra siamo troppo gentili questa è bellissima quando l'ausburg iniziava ad andare pesante vabbè ecco questa cosa l'ho tralasciata ma quante mazzate ha dato l'ausburg l'arbitro che non fischiava mai non ha mai cacciato un cartellino infatti all'improvviso è stato proprio aurelio de laurentis andare dal quarto uomo e a chiedere proprio guardate fate qualcosa perché se no noi già stiamo un po' così e così se questi ci fanno anche male infatti dopo c'è un brutto pestone su politano e nel primo tempo c'è un fallo pesante sul sciolito simeone tutti abbiamo avuto paura piano piano infatti c'è stato proprio un momento dove il presidente va dal quarto uomo ma poi passiamo al secondo tempo perché all'improvviso togliamo il minutaggio togliamo un po' la fase tecnico tattica ai ragazzi perché io poi vi voglio svelare un segreto io queste amichevoli le guardo soprattutto per guardare il lavoro senza palla ecco ve l'ho detto il mio segreto perché può iniziare a percepire tante cose per esempio nel primo tempo ho visto delle cose interessanti a parte tutti questi movimenti che vi ho detto prima di raspatori di elmas ma anche quello dei difensori ho visto una cosa simpatica che garzia già ha fatto sia nel lione sia nel marsiglia un po' nelle sue squadre questa difesa un po' a fisarmonica io la chiamo così anche se non è proprio questo il termine tattico cosa vuol dire visto che vuole una squadra che domina lui non vuole sempre la linea difensiva perfettamente dritta ma per esempio lascia due calciatori che di solito sono un centrale ed un terzino e invece agli altri due li lascia un po' più liberi di andare a scappare verso gli attaccanti avversari e questa cosa l'ho visto spesso quando l'ausburg teneva palla all'indifesa si appoggiava al portiere il portiere andava in verticale o uno dei due centrali in questo modo cosa succede visto che la difesa del napole è sempre alta lui vuole tenere due calciatori pronti ad andare a scappare indietro e a seguire ad assorbire la fase offensiva avversaria questa cosa l'ho vista fare in amichevoli poi in amichevole poi non è detto che la vediamo in campionato però io la voglio segnare proprio per dirvi che io gli amichevoli le utilizzo proprio per vedere queste cose senza palla quando i calciatori non hanno la palla tra i piedi e poi ho visto anche quello che già vi ho detto in altri video che lui sui calci piazzati sui calci d'angolo fa praticamente una difesa mista a zona ea uomo questo l'ho visto fare spesso in tutte le uscite anzi in tante partite del garcia non allenatore del napole in queste uscite nelle partite amichevoli ma prima di andare avanti se vi sta piacendo questo video ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun contenuto mi raccomando passiamo al secondo tempo perché dopo un po di minutaggio 10 15 minuti inizia rudy garzia lo scienziato pazzo prende chiama ostica e dice tu leo mettiti lì davanti alla difesa all'improvviso troviamo uno sti card play come avete visto sulla copertina perché questa cosa importante da sottolineare anche se è stato per pochissimo tempo e poi lui ha interpretato il ruolo di centrocampista basso in modo ecco non come lo botta non come demme ma era solo lì posizionato siccome garzia aveva pochi uomini a fare da schermo soprattutto perché il napoli abbassato tanto il baricentro soprattutto nella seconda parte di secondo tempo e soprattutto dopo il gol di raccomani perché il napoli ha vinto 1 a 0 gol perfetto di amir raccomani grandissimo colpo di testa imprendibile dal portiere dell'hausburg e quindi dobbiamo segnalare che ostica da fatto il difensore centrale scusatemi il centrocampista centrale il play basso per un po di tempo poi è tornato questo centrocampo molto mobile perché poi entra demme nel momento in cui entra demme non si va a mettere lì come play ma resta sempre ostica che ripeto ha un po di difficoltà a gestire palla non lo abbiamo visto anche in un minuto dove non sapeva proprio come fare il suo compito era quella di andare a recuperare palla e di passarla al giocatore più vicino quindi ovviamente è stata una prova perché non c'erano calciatori però questo vi fa capire che garzia oggi ha fatto lo scienziato pazzo per esempio avendo sempre la problematica di avere calciatori da mettere nei propri ruoli mette zanoli come esterno alto però però ricordate quanti di voi mi dicevate ma perché zanoli non può stare esterno alto e ve lo ha fatto vedere un po garzia anche se ha fatto qualche erroruccio il ragazzo ma ci sta è un amichevole ragazzi quindi questo era quello che c'era da dire su questa partita indicazioni pochissime minutaggio gestito forse meglio rispetto all'altra volta ma anche perché i calciatori erano contati un bacio e un abbraccio da sasa mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un like al video perché noi arriviamo sempre live video tante novità ciao forza napoli